Quando sono venuto su questo palco mi hanno chiesto primo maggio, dimmi la tua prima volta ed effettivamente oggi è stata la mia prima volta è la prima volta che mi è successo comunque ragazzo non potrei essere più fiera di così di quello che ha fatto Fede stasera veramente avere il coraggio di andare contro tutti per dire ciò che si pensa, non è cosa da poco e sono super fiera volevo ringraziare anche tutti voi perché mi sento molto uniti ed è bellissimo leggere quanti di voi sono stati toccati da questo discorso e niente, il potere della condivisione come dico sempre però è veramente super vero Mi è successo di inviare un testo di un mio intervento perché doveva essere messo al vaglio per approvazione da parte della politica approvazione che portò Grazie a tutti